Il mio nome è Anna Baccari, da più di 40 anni ho deciso, ho scelto di fare l'artista, inizio come ritrattista, come incisore per approdare poi alla ceramica e alla scultura. Molto importante nel nostro territorio sono i pavimenti dell'ospitalia della Villa Adriana conosciuta in tutto il mondo o i pavimenti, le ceramiche della Villa d'Este o gli affreschi degli zuccheri che fanno parte della nostra cultura e della nostra arte. Nel mio laboratorio cerco di trasportare questi elementi in tavoli, in ceramiche, in sculture, in oggetti d'arredo come piatti, lampade e tutto quello che concerne proprio l'arte arredo. È una parte di storia, di storia antica, che però è sempre attuale perché è di altissimo livello. Ho una mia linea grafica che poi applico alle diverse tecniche artistiche, e quindi una linea grafica che io chiamo degli omini, che sono degli esseri sognati, rappresentano il sogno, che entrano sia nella ceramica che nell'incisione, negli acquerelli, e in genere illustrano un mondo pieno di poesia, pieno di armonia. E quindi questo elemento grafico si ritrova nei servizi di piatti, nelle lampade, nei pavimenti di ceramica, anche se sono quelli dell'imperatore Adriano, e sono poi in tutte le rappresentazioni, in tutte le tecniche che porto avanti nello studio. Questo nostro territorio è una fonte inesauribile di spunti artistici, tanto è ricco di storia, e mi auguro che questo video possa aumentare la consapevolezza di chi lo guarda.